Oggi siamo sulla sponda delle chiese del lago di Cuomo e siamo venuti alla scoperta delle cascate del Cenghelle. Più precisamente il percorso parte da Abadi all'Ariana, si svolge in un'oretta circa, su un percorso abbastanza semplice, pianeggiante, con qualche salita. Sì, tra boschi e sentieri di ciottolato. Il risultato è un posto davvero suggestivo, un angolino di paradiso. Sì, perché le cascate del Cenghelle sono una delle più spettacolari di tutta la Lombardia. Sì, perché le cascate del Cenghelle sono una delle più spettacole. Sì, perché le cascate del Cenghelle sono una delle più spettacole. Sì, perché le cascate del Cenghelle sono una delle più spettacole. Grazie a tutti.